17 febbraio 2022, presentazione della Ferrari F175 al reparto Corse qui a Maranello. Sale l'attesa fra i tifosi Ferrari. Non vedo l'ora di vedere la nuova monoposto, di vedere la presentazione. Sto anno si deve vincere il mondiale, stop. Quali sono le attese per il mondiale 2022? Per me è carletto. Speriamo che con questa nuova vettura quest'anno riusciamo a salire sto gradino. Una sorpresa anche per i tifosi Ferrari con la presenza di Antonio Giovinazzi, collaudatore terza guida Ferrari. Come sarà questo campionato 2022? Cosa ti aspetti? Spero positivo per Ferrari, solo questo. L'attesa è servita, è arrivato Giovinazzi a fare gli autografi. Sì, è arrivato adesso, è uscito con delle persone e si è fermato a fare gli autografi ai tifosi. È stato molto gentile, ha firmato tante foto, ha fatto molte autografi. È stato gentilissimo.